Un oggetto si muove su di un piano orizzontale con velocità costante sotto l'azione di una forza f di 100 newton. Se il coefficiente di attrito dinamico tra il piano e l'oggetto vale 1,5, quanto vale la massa dell'oggetto? Abbiamo un oggetto che si trova su un piano orizzontale. Sappiamo che si sta muovendo con velocità costante e quindi possiamo applicare il primo principio della dinamica. Se la velocità è costante allora la forza totale sull'oggetto è 0. In questo caso la velocità è costante quindi possiamo dire che la somma di tutte le forze sull'oggetto è 0. La forza f più la forza di attrito dinamico deve essere 0. I due vettori sono opposti quindi la forza f deve essere uguale alla forza di attrito dinamico. L'attrito dinamico ha una sua formula. Coefficiente di attrito dinamico per la forza che sta schiacciando l'oggetto contro il piano. Quindi in questo caso la forza di gravità m per g. Da qui, formula inversa, troviamo la massa dell'oggetto come forza fratto coefficiente di attrito per accelerazione di gravità. Abbiamo i dati, li mettiamo nell'equazione, calcoliamo il risultato della massa. Ovviamente questo schema riguarda solo le forze in orizzontale. Quando devo disegnare tutte le forze di un sistema fisico devo considerare anche le forze in verticale. In verticale l'oggetto è fermo perché lui si sta muovendo solo in orizzontale. Quindi la velocità in verticale è 0. Sempre per lo stesso principio della dinamica, se la velocità è costante, in questo caso costantemente 0, la forza totale in verticale è 0. E quindi la reazione vincolare del pavimento che sostiene l'oggetto deve essere uguale alla forza di gravità che sta schiacciando l'oggetto. La forza di attrito dinamico, e qui ho scritto come coefficiente di attrito per mg, è in generale in molti libri scritta come coefficiente di attrito dinamico per la reazione vincolare del pavimento che in questo caso è uguale alla forza di gravità. Questa formula è preferibile in quanto la reazione vincolare si adatterà sempre alla forza totale che schiaccia l'oggetto contro il pavimento. Grazie a tutti.